Centinaia di firme che si vanno ad aggiungere alle oltre 700 raccolte in formato cartaceo per chiedere l'apertura del cantiere nella scuola primaria Luciana Masciangio. Gli interventi immediati per la conservazione della struttura ha sortito gli effetti sperati la petizione dell'Associazione Iammomò che con il banchetto allestiro sotto i portici della Chiesa della Trinità ha coinvolto la cittadinanza. Fra i sostenitori della causa c'è anche il Vescovo di Smunavalva Michele Fusco. Sono state centinaia e centinaia le persone che non solo si sono fermate a firmare la petizione a parlare con i soci di Iammomò e offrire il loro contributo al fine di sostenerci nell'iniziativa trasferendo alle istituzioni competenti tutto il disappunto possibile per un grande problema lasciato nell'oblio ma si sono dette anche e soprattutto disponibili a non lasciarci soli nelle investiture future siano esseri culturali che sociali spiegano dall'Associazione che sabato prossimo replicherà l'iniziativa e intanto la trattativa traditta e comune resta ancora aperta. I famosi 20 giorni annunciati in Consiglio sono ormai decorsi ma ancora si arriva a trovare la quadra. L'impresa ha chiesto una variazione di costi visto che la giudicazione dell'appalto risale a tre anni fa ma da Palazzo San Francesco dopo la fumata nera di tre settimane fa non hanno ancora fatto alcun passo in avanti e nel frattempo la scuola resta abbandonata a se stessa con il cancello del cortile retrostante completamente aperto come rilevato durante il blitz di Rossella del Monde figlia della Masciangeli e l'inchiesta nottetempo di Onda Tg. I residenti della zona hanno segnalato la presenza di alcuni senza tetto durante le ore notturne. L'obiettivo è quello di inaugurare il cantiere per risolvere anche il problema di conservazione della struttura ma i giorni continuano a passare. Quella dell'istituto Masciangeli in una complessa vicenda arenata si è a seguito di articolati contenziosi davanti al Tare e Consiglio di Stato che hanno allungato i tempi per l'inizio degli interventi di ristrutturazione sismica. Le vertenze sono state superate positivamente per il Comune con l'autorizzazione sismica ottenuta lo scorso 14 febbraio dal Genio Civile grazie all'ex vicesindaco Nicola Angelucci. L'importo dei lavori è pari a 3.814.000 euro finalizzati a riconsegnare alla città una scuola sicura con coefficiente sismico di miglioramento 0,88 un istituto storico al quale la cittadinanza è molto legata sul quale vi sono le attenzioni della sovrintendenza. Grazie a tutti.